Di fronte ci saranno 59 campionati giocati in Serie A, 30 per il Bari, 29 per il Palermo. Tanto basterebbe per sintetizzare il blasone della partita in programma domenica alle 14.30 al Barbera per chiudere il girone di andata del gruppo C di Serie C, guidato da Antenucci e compagni con i rosa-nero siciliani che inseguono a otto punti di distanza. Palermo-Bari si giocherà per la sessantottesima volta, la terza in C con bilancio in perfetto equilibrio, 22 vittorie a testa e 23 pareggi, ma sarà anche la parata degli ex, almeno per 4 di loro. Sarà una gara speciale. Su Sponda-Palermo c'è Marco Perrotta. Con il Bari il difensore centrale ha giocato per due stagioni con 54 presenze, 3 reti e 2 assist. Quest'anno in rosa-nero è già sceso in campo 15 volte, mettendo a referto anche un assist. Ha giocato con il Bari anche Roberto Floriano a Palermo da gennaio del 2020. Per lui 39 presenze e 12 gol in bianco-rosso tra D e C con una firma indelebile sul ritorno tra i pro. Sarà invece ritorno in Sicilia per Antonio Mazzotta ed Emanuele Terranova. Entrambi cresciuti in rosa-nero, entrambi certezze in bianco-rosso. Con il Palermo Mazzotta ha giocato 11 partite con un gol nella Serie B 2018-19, mentre Terranova, giocatore di movimento più impiegato da Mignani con 1530 minuti in campo, non ha mai esordito in prima squadra. Tanti i doppi ex storici della partita, Franco Brienza, Mattia Cassani, Massimo Donati, Alberto Fontana, Gaetano De Rosa, Beppe Papadopule e Fabio Grosso. Quest'ultimo, oggi allenatore del Frosinone, parla così del match del Barbera. I ricordi sono indelebili perché comunque ho vissuto delle stagioni bellissime, in una piazza calda. Mi siamo tolto senza soddisfazioni, quindi sono stati anni belli da giocatore. Invece a Bari sono stato un anno solo, però un anno intenso perché comunque è una piazza molto calorosa in cui mi sono trovato molto bene, mi hanno accolto bene e sono stato contento di quello che abbiamo fatto. Purtroppo poi il finale non è stato quello che tutti avremmo voluto fosse, avevamo sognato. Però ho sempre dei ricordi molto belli di queste due piazze e sono sicuramente due piazze che meritano di salire. Grazie.